Volete imparare brani nuovi alla batteria e siete nella ricerca di spartiti corretti, affidabili, ma soprattutto gratuiti? Ho la soluzione che fa per voi. Sigla! Ciao ragazzi, benvenuti su Passione Ritmo. Oggi sono di nuovo qui nel mio home studio per parlarvi di un sito che negli anni mi ha aiutato tantissimo, The Drum Ninja. Sicuramente vi state chiedendo che cos'è e a cosa serve. Ve lo spiego subito. Eccoci nella schermata iniziale del sito. È suddiviso in quattro parti, quattro sezioni, Drum Lessons, Interviews, Drum Gear e Transcriptions. Direi di partire dalla prima, Drum Lessons. Entrando nella sezione Drum Lessons, innanzitutto scopriamo che questa sezione è suddivisa in quattro sottosezioni. La prima è Learn how to play songs. In questa sottosezione appunto troviamo, a parte diciamo il collegamento del sito con Dramio, ma non ci interessa pagare l'abbonamento a Dramio, c'è un sacco di materiale gratuito, gli autoplay appunto di brani famosi come Harder to Breathe dei Maroon 5 e piuttosto che Space Cowboy di Jamiro Quay. Quindi entrando nella pagina, la prima cosa che troviamo è un video dimostrativo in cui ci viene suonata il brano, la canzone, seguendo lo spartito originale. Spartito originale che possiamo scaricare tramite qui, download di pdf, completamente gratuito. E poi c'è una spiegazione del brano, un'analisi del brano a parole, quindi il verse, il chorus, con delle note. Tornando indietro e scorrendo giù troviamo poi la sezione Drum Beats, in cui diciamo ci fanno vedere degli spartiti, ad esempio di come può essere suonato il 5 ottavi. E quindi abbiamo prima una spiegazione a parole e poi degli spartiti, più per beginners magari, chi è interessato ad approcciare per la prima volta a tempi dispari, con sempre un video dimostrativo. Oltre al 5 ottavi c'è il 7 ottavi, piuttosto che ritmi magari latinoamericani, afrocubani come il songo. A fianco troviamo invece la parte Drum Leaks, dove c'è sempre il nome di un batterista e appunto la parola Leak a fianco. Che cosa vuol dire? I Leak sono quei fill, ad esempio sono entrato in Steve Gadd, quei fill o quei ritmi che li hanno resi famosi, che fanno molto spesso. E in questo caso non c'è lo spartito, ma c'è sempre lo sticking, quindi il maneggio, e il video dimostrativo. Oltre ai Leaks manca l'ultima parte, che sono i Drumming Essentials. In questo caso è più per beginners, quindi ad esempio come suonare i Paradiddle, piuttosto che come trovare l'insegnante di batteria perfetto, ma anche cose più generali, tipo come pulire la batteria. Quindi in questa prima sezione Drum Lessons c'è davvero tantissimo da esplorare. Fatelo e sicuramente troverete tantissimi contenuti interessanti per voi. Adesso torniamo alla home page e passiamo alla sezione Interviews, dove appunto troviamo ProDrummer Interviews, quindi interviste a batteristi famosi, come ad esempio Jimmy Cobb, grandissimo jazzista, piuttosto che Gavin Harrison, Thomas Lang. Entrando in ogni intervista c'è la trascrizione dell'intervista e troviamo sempre anche un brano in cui Thomas Lang suona, quindi possiamo sentirlo suonare. Dopo la sezione Interviews possiamo passare invece, tornando alla home page, alla sezione Drum Gear. Nella sezione Drum Gear troviamo dei consigli per acquisti. Diciamo che qui è un po' la sezione Marchettara, ma in realtà neanche più di tanto. Scendendo giù appunto troviamo, ad esempio, i migliori Charleston, piuttosto che i migliori piatti per jazz e il funk. Forse una delle parti più interessanti è proprio questa, cioè le migliori batterie per chi inizia. Cliccando entriamo in questa pagina dove ci danno sei consigli, eccoli qua, al primo posto per l'export New Fusion, ad esempio, e c'è anche questo pulsante Check Current Price, che cliccandolo ci porta nel sito di Sweetwater, dove viene indicato il prezzo, chiaramente abbiamo le immagini della batteria, o ad esempio possiamo passare a Pearl Roadshow, c'è sempre il collegamento a Sweetwater, il prezzo, le immagini, così che possiamo farci un'idea sul prodotto che andiamo ad acquistare. Dopo Drum Gear, secondo me, c'è la sezione più bella, più interessante del sito. Quindi tornando alla home page, torniamoci subito, eccoci qua, passiamo alla sezione Transcriptions, che è veramente fantastica. In questa sezione troviamo una lista di brani, eccoci, di 162 brani per l'esattezza, dove c'è Artista, Canzone, Trascrizione, ad esempio la prima ACDC Back in Black. La trascrizione si può scaricare gratuitamente, cliccando su Download, si apre la schermata, chiaramente da qui possiamo andare a scaricare, c'è tutto, la velocità, le varie sezioni, intro, verse, chorus, guitar solo. Gli spartiti sono veramente molto affidabili, in tanti anni utilizzando il sito sia per me stesso, che anche per i miei allievi, facendo l'insegnante, sono sempre alla ricerca di brani nuovi per far suonare i miei studenti, e, devo dire, non ho mai trovato un errore. Tra le trascrizioni ce n'è per tutti i gusti, nel senso che ACDC, Aerosmith, Adele, piuttosto che Bon Jovi, Bob Marley, Coldplay, quindi veramente, praticamente tutti i generi musicali. Certo, io questa sezione la utilizzerei al contrario. Che cosa intendo per utilizzarla al contrario? Piuttosto che pensare a un brano e poi andarlo a cercare nella lista, che trovarlo, secondo me, è una fortuna incredibile, io mi guarderei la lista con calma, anche perché, insomma, su 162 brani, uno interessante, credo che lo possiate trovare. Adesso le trascrizioni ce le abbiamo, ad esempio, di Purple Smoke on the Water, Download. Ma come facciamo a suonare il brano se non abbiamo una base drumless? Per crearla vi consiglio di utilizzare l'app Moises. Basta inserire la mia P3 originale del brano e a quel punto potete, appunto, separare le tracce e togliere quella della batteria. Se volete saperne di più su Moises, ho già fatto un video che vi lascio qui in alto e in descrizione. A questo punto esplorate il sito, vi lascio il link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato dei contenuti interessanti. Il sito offre tantissimo, ce n'è per tutti. E poi esplorate anche il mio canale. Negli ultimi giorni ci sono stati tantissimi nuovi iscritti, anzi vi ringrazio perché abbiamo superato abbondantemente i 2000 iscritti. Sul canale troverete contenuti in cui parlo, ovviamente di batteria, che spero possano piacervi. Alla prossima, daje!